Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nuova videorecensione, questa volta dedicata ad un film, remake di un thriller noir in bianco e nero. Entrambe le pellicole si ricordano per l'interpretazione dei due cattivi, dallo stesso nome di battesimo Robert. Prodotto dalla Ambling Entertainment di Steven Spielberg, che ne sarà anche produttore esecutivo non accreditato, Cape Fear è una pellicola del 1991 diretta da Martin Scorsese, a cui il film venne proposto dall'illustre amico. L'idea di riportare sul grande schermo il Promontorio della paura del 1962 fu coltivata per diversi anni dallo stesso Spielberg, come racconta un interessante articolo della stampa del 1992. Nell'estate di due anni prima, concretizzatasi la possibilità di girare il film grazie ai capitali degli Universal Studios, Spielberg si ritrova però impegnatissimo con il capolavoro che diverrà Schindler's List. Con Robert De Niro, che si conferma interessato a reinterpretare il ruolo dell'ex galeotto psicopatico che fu di Robert Mitchum, Spielberg pensa subito all'amico Scorsese, che in coppia proprio con De Niro aveva girato alcuni tra i migliori film mai realizzati ad Hollywood, come Taxi Driver e Toro Scatenato. E ancora con De Niro stava completando il montaggio di Quei Bravi Ragazzi. Scorsese, che era ovviamente impegnato, inizia a pensarci. Il regista newyorkese ha affermato diverse volte che nel cinema americano si può fare un film per se stessi solo dopo che se ne è fatto uno per l'industria. Con Cape Fear accadrà esattamente il contrario a confronto con Quei Bravi Ragazzi. Apparentemente confezionato come un prodotto degli studios, in realtà per Cape Fear Scorsese pone da subito delle condizioni per la sua realizzazione. La prima è quella di avere a fianco l'amico De Niro, anche egli poi produttore non accreditato. La seconda condizione è quella di ripensare la sceneggiatura consegnatagli da Spielberg. La famiglia dell'avvocato Boden, tormentata dal vendicativo ex galeotto Max Cady, è troppo borghese e perbenista. Ci vuole uno scheletro nell'armadio, la condotta non etica di Boden rispetto al processo di Cady, più di qualche attenzione internamente alla famiglia, dovute a situazioni matrimoniali irrisolte, e tra la famiglia e l'ex galeotto, soprattutto da parte della figlia adolescente, che pare mostrare brividi di eccitazione di fronte alle pericolose avance di Cady. Insomma, Scorsese voleva metterci la sua firma, continuando a rappresentare anche in questa pellicola un universo popolato di personaggi pieni di ambiguità, dove le categorie morali spesso si ribaltano e si mescolano continuamente. Rispetto all'originale, oltre al Max Cady che ho già citato, un De Niro mai così sadico e vendicativo sul grande schermo, questo remake rinnova anche la figura dell'avvocato Boden, ora un personaggio dai forti contrasti, interpretato da Nick Nolte. A fianco dell'avvocato, la moglie lei di Jessica Lange, e Danielle, la figlia quindicenne interpretata da Juliette Lewis, candidata insieme a De Niro all'Oscar, che non vincerà, come migliore attrice non protagonista. Per omaggiare l'originario promontorio della paura e dare l'idea di una connessione, come se questo Cape Fear fosse un nuovo episodio, piuttosto che un remake, la presenza di tre importanti camei. Robert Mitchum, che interpreta un tenente di polizia, Gregory Peck, l'allora avvocato Boden, che qui è un avvocato difensore e costituzionale, scienza di Nick Nolte, e infine Martin Balsam, che ricopre il ruolo di un giudice. Non è questo l'unico richiamo del primo promontorio della paura, perché Scorsese farà riarrangiare da Elmer Bernstein le musiche originali di Bernard Herrmann, compositore di film che hanno fatto la storia del cinema, come Taxi Driver, Quarto Potere e Psyco. L'impronta ispiratrice di Hitchcock emerge chiaramente anche nell'atmosfera cupa e claustrofobica creata da Scorsese, introdotta già dai titoli di testa, fra i dieci migliori di sempre secondo la rivista inglese Empire. Opera niente meno che di Saul Bass, abituale collaboratore proprio del Maestro del Brivido. Thriller teso ed angosciante, questo Cape Fear si sviluppa nei suoi 122 minuti in un crescendo di violenza e sadismo, nel quale l'ex galeotto Max Cady mette a frutto una vendetta nei confronti del suo avvocato difensore, maturata in 14 anni di carcere, in cui Cady studia legge, pompa i suoi muscoli e ricopre di tatuaggi tutto il suo corpo, con frasi sulla giustizia che lo trasformano nelle sue intenzioni in un angelo vendicatore. Un po' inaspettatamente per me, il dizionario dei film Il Mereghetti assegna tre stelle su quattro a Cape Fear. Secondo il famoso critico cinematografico, sebbene il film sia mosso da ragioni commerciali, arriverà a costare 35 milioni di dollari, Scorsese è abile nel traghettare in noir classico negli anni 90, girando un thriller così eccessivo da toccare il parossismo. Secondo il noto critico, da straordinario trasformista qual è, De Niro diventa il lato scuro di un sistema che confonde la vendetta con la giustizia, mentre l'avvocato di Nick Nolte è il palese simbolo della cattiva coscienza di una società che ha ceduto alla moralità e all'etica all'indifferenza. Questa discesa agli inferi da una parte, in contrasto con il riscatto di Bowden dall'altro, che è costretto a pagare i suoi debiti coinvolgendo la sua famiglia, è gestita da Scorsese con uno stile registico magniloquente, ricercato quanto kitsch, pieno di soluzioni visive, di richiami e di memorie cinefile. Un film del genere merita quindi un formato idoneo per il pieno godimento domestico. Considerato l'anno di uscita, sin dalle prime edizioni in VHS, Cape Fear è stato oggetto di buoni riversamenti, anche se non all'eccellenza. Stando alle recensioni del tempo, la videocassetta veniva segnalata soprattutto per l'ottimo Dolby Surround. Non ho posseduto il nastro di questo film, ma nei mercatini romani dell'usato ho avuto la possibilità di recuperare le tre facciate della versione LaserDisc, un'edizione dal formato decisamente più accattivante per il collezionista a confronto con quella in DVD del 2003. Le riviste specializzate del tempo assegnavano giudizi quasi al top del formato per la versione LaserDisc. Veniva criticata, e giustamente, solo la terza facciata, che ne aumentava il prezzo di acquisto. Necessaria in realtà per coprire pochi minuti oltre il limite del formato. Colpa anche del trailer di Twister posto all'inizio del primo disco. Senza nessuna sorpresa, il LaserDisc non regge il confronto col DVD, soprattutto per la parte video. se non altro per la qualità analogica della traccia LD e per il widescreen non anamorfico, che richiede lo zoom quando proiettato su un televisore moderno. I difetti non possono che incrementare in questa modalità di visione. La traccia Surround in qualità PCM del LaserDisc risulta molto più presente rispetto a quella compressa in Dolby Digital 2.1 del DVD, la quale però è maggiormente in grado di ricostruire l'esperienza cinematografica moderna, almeno sul mio impianto 6.2.2. Pollice in su pertanto per l'edizione in DVD che ho preferito a quella in LaserDisc. Vincitore di 5 premi Oscar, Bernard Herrmann è considerato uno dei compositori più importanti ed omaggiati della storia del cinema. Come ho già anticipato, per Cape Fear, Scorsese riprende la partitura originale di Herrmann e la cede a Elmer Bernstein per riarrangiarla ed adattarla al proprio film. La traccia di Herrmann, così unica nella sua orchestrazione, resta indelebile nel caratterizzare la psicologia dei personaggi, creando parallelamente una sorta di stato di trance che estende ancora di più il contrasto rispetto alle immagini proiettate. I 92 elementi dell'orchestra sono registrati dal vivo in studio. L'ascolto è consigliato anche agli appassionati audiofili, sempre alla ricerca di ottime incisioni. Con questa colonna sonora non resteranno delusi neanche da questo punto di vista. Per la tridimensionalità della scena sonora e il contrasto dinamico tra il lascivo tappeto degli archi e gli inserti improvvisi degli ottoni su più piani orchestrali. La colonna sonora è ascoltabile in qualità CD su Quobaz per chi possiede l'abbonamento a questa piattaforma di streaming. Per quanto mi riguarda, valuto Cape Fear per quello che è considerato nella carriera di Scorsese e di De Niro. uno straordinario saggio di bravura portato all'estremo, ma niente più. Per carità, è un buon thriller concitato, angoscioso e violento. In diversi paesi nord-europei sarà anche oggetto di qualche censura e sarà vietato ai minori di 18 anni. Ma l'eccesso voluto da Scorsese, più che un mezzo per raggiungere un fine narrativo, sembra una dimostrazione della sua abilità di raccontare, anche e soprattutto con la tecnica e con l'appoggio di De Niro, vicende diverse da quelle legate al filone italo-americano. Terminerei quindi citando la chiusura proprio dell'articolo della stampa che ho citato. Bravissimo! Chissà se ne valeva la pena. Da recuperare sicuramente anche la versione originale diretta da J. Lee Thompson. Anche per questa video recensione è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita. Nella terza epistola ai Galati è detto avete forse sofferto tutte queste cose in vano? e grazie a tutti. Grazie a tutti.